Roma! Roma! Lazio! Roma! Roma! Cazzo! Fri! No vabbè! Te dico fermate! Te dico derby! Suco de frutta! Demand Gabbia! Pesca il bigo! Lo dici ogni volta! Stai zitto perché siamo a fare i punti in classifica! Lasciamo perdere la Champions League perché quello è un altro discorso! I derby sono partite a parte! I partiti europei non c'entrano assolutamente niente ma questa volta ve l'abbiamo promesso! Figa! 18 anziché chess perché abbiamo fatto troppo chess per le coppe europee! A chi tocca? A Lazio? A te! Ho detto io Roma! 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 Quindi diamo il B alla sigla! Vediamo quello che succederà! E speriamo che se verifichi il contrario! Solo ed esclusivamente se vinco io! Sennò speriamo che se verifichi la diritta se vincino! Vai! 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 Madonna! Fa sempre più rumore ogni tanto! Ma preso alla cotenna! Oh eh sì tanto! Poi te sta morire? Ma sì ogni tanto me va! Ciao ragazzi! Poi ti piace! Sì sì! Poi, che sei Nemo? A te vari! Siamo tornati con questo nuovo video! Figa! 18 ragazzi miei! C'ho la Lazio a pallettoni tranne Bustos! E io che non hanno considerato hanno considerato la partita che la Fiorentina che tra l'altro ha pure giocato bene non hanno considerato la Cesson's League se prendi il controller in mano come ti piace a te e lo sdrucini possiamo cominciare la partita 3-4-1-2 giusto per rimembrare la Cesson's League non so se verrà riadottato però gliel'ho permesso perché comunque sembra essere stato un modulo vincente vedremo vado tiè dai che si comincia non te faccio vedere io a te quello che ti ha complicato Alazio guarda che ti ha complicato Felipe Spanderson e Spanderson ma che devi fare? non te l'ho deviata tu dormi ecco oh me ne vado me ne vado eh così non lo fai però dribbling è morto è morto si è smucchiato si cazzo non ce ne può fregare meno la dovevi andare magnotta per voi è morto è morto porca m***a ragazzi questo è lo stadio olimpico farlocco no ma vi asciugio olimpico no è originale è originale mi stava confondendo con lo stadio l'Olympic quello del Napoli qua a Z di Zorro per Luigi e Stefano Fava mi ha fatto vedere l'iscritto l'altro giorno mi ha mandato una foto un autore di un libro Stefano Fava mamma mia è lui hai detto se è morto non è lui sarà lui non lo so no non mi pare di scienze o che sono morto dalle risate penso pure lui tiè guarda che tipi guarda che belli la mia squadra che non è del cuore perché io che è qua che differenza 25 gol di differenza tra Lazio e Roma una fraccata ragazzi una fraccata guarda Lukaku ma che c'è i guantini di primavera c'ha freddo vabbè capitelo la terza gamba ce l'avrà pure su della terza gamba al guanto al mono quando quello che ho messo io qua a porta ai pronostici voi ricordate quello imbottito ecco si abbracciano si stringono si smuccinano cominciamo ma cominciamo la partita ebbè perché non ah ecco lo sai che mi sento mi sento che segno dei rovesciati oh che gioco mortacci della mo della mo manco l'appello vediamo spipipipin guarda come sale mazza come ha scattato guardala Lazio come è buono l'inserimento under no se ne andava under ma non è il pallonetto non è possibile non so che cazzo fa dalla perché stava da solo c'è il gizzo che c'è assomia per cazzo se è identico solo un po' più abbronzato però è qui qua che pare cosa allora mamma mia già l'inserimento se ne andava vedete booo c'è quel porco io non ho capito perché i difensori su fifa me fanno così ma che ne so ma visto come l'ha fatto ma poi ho schiacciato il tasto e non me seleziona me fa un cazzo a sta cosa me parte guarda la scia verde non ho la voglia di grittare al fondo no 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 non ne voglio sapere porco no come cazzo hai pegnato sto qua non è fuori gioco ma hai rotto il cazzo a dire che è fuori gioco è fuori gioco non è fuori gioco ma come no ma come no ma che sei ciecato è fuori gioco perché cazzo non lo fischiano allora guarda un altro fuori gioco ma lo fischia no questa è buona questa è buona il cross ma il cross perché per chi sto cazzo no dai ma era facilissimo ho capito non si è affidata ha fatto spaz spaz com'è possibile che è meglio di così il centro cazzo oh è buona andiamo al che me cascano per terra i giocatori ma guarda che è una vergogna è una vergogna cross è buono ciro 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 non c'è chi ciro dove ozzera 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 sepia allargaccio i giz come sei passato prova al tiro perché te ricavi da perché cazzo te ricavi da addosso ma non ho idea che cazzo d'angolo allora tentiamo adesso preparati questa me la sento calda me la sento calda la parola la parata questa me l'anticipo si è fermata dai ha parato oh lukaku lukaku che cazzo ha fatto questo buono buono meno male va che cazzo ha parato ha fatto un mezzo miracolo e poi ha tirato fuori si è tirata la terza gamba tipo baseball era dentro che poi non è a mano in realtà sotto l'infrocio quindi dovrebbe essere pure buona certo non credo che sia un problema no prova da lontano c'è il giz ci sono commenti segna mannaggia che si è fumato eh vaffan... come? eh ci ho provato bravi 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 devo ribaltarla perché se verifica al contrario sai direi a tre io ho fatti di più e sempre a me due fuori che palle che palle che p-a-l-l-le-le vai cazzarola vai fuori vai vai chi è questo è lei va è lei va te proprio rivediamo spic e pin spin e niente ma è fuori da un bel po' c'è ma ha piato il palo manca a fare l'apposta quell'altro la piano se ci riprova non ci riesce ho fatto la cazzare lo so lo so l'hai fatto lo so l'ho visto nooo sti errori no ma è stata solo è stata solo è bastardo lo faccio io e niente me lo fa moscio è il zippono ma che zippono la fregna della ma no perché rimane lì no l'appoggio c'è l'appoggio c'è 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 te aspettavi il pallonetto a sto giro ma che mi aspettavo aspettavo i mortacci tu mi aspettavo stavi a paura ho aspettato ma ho detto lo esco ma perché rimane da solo perché rimane da solo perché lo mannano da solo l'1-2 che funziona lo scambio rapido eh sia rapida si veramente mi scrivi terroristi mi scrivi terroristi porco bovite che c'hai le palle c'hai tre palle guarda che ha fatto no no senti non ha toccato niente non ha toccato niente io che ho fatto è assurdo è assurdo e oggi lo posso dire è assurdo tutto quello che mi è successo ma mi da tira quanto ci vuole oh io tiro lui para certo poi lui tira io se ne pio gol bravo bravo spaccai è la porta ti ricordo da slave ma che vai cercando ma che mi ha metto pure a guarda con chi tiro è stata avanti alla porta che ritorno indietro ma perlomeno appoggia mi è capitato quel cristo metto quel cristo no tira di precisione rompe i coglioni sali come se fa a far sali quel cretino no no qualcuno al solito me saprei tiè no c'è sempre qualche cazzo di culo che te salva l'anima degli mortacci tua esatto ti salva pure i tuoi ancora una parata un'altra una parata un'altra ma ti devi centrale ma che vuoi ma ho angolato tiro centrale è angolato che eh cioè questa è angolata che cazzo vuoi se ti raccetti io ho angolato con le frecce eh non me pare eh non me pare non me pare c'è il controller handicappato eh è il gioco centrale ma che vuoi dai ecco gliela fatta è finita la partita è finita vaffanculo 82esimo risultanza diversa ti credo come è partito R2 non so come non so quando ma ragazzi esplode la parte dello stadio olimpico più spisellata perché la Lazio gioca in casa e spata span si hanno dormito bellissimo sul prato verde scola bene ragazzi ecco perfetto detto così sembra chissà va bene diciamo perdere i discord gioco mo te faccio il 2 a 2 castroman castroman sei un pezzo di me sei un pezzo di me sei un pezzo di me che hai fatto? no no mi stai rincoglionendo e non è il trainer ragazzo sei tu che c'è il trainer ma che cazzo ha fatto sta telecamera ma che ha fatto? che ha fatto? che ha fatto? che ha fatto? che ha fatto sta telecamera ma dai ma si era bloccata ma si era bloccata ma si era bloccata la telecamera ma che cazzo me lo frega dove hai visto? si era bloccata la telecamera ma sono sbagliato ho schiacciato per cosa io trema lo stadio dove a due ragazzi cioè non ci stavo capendo non ci stavo capendo da niente ma non ti fassi il razio poi che razza di ciabatta che gli è partita adesso non è partita un quarto tono di ritardo ho capito ma quando partirti non è che c'hai riflessi di gig robot d'acciaio non c'ho con la voglia di gritare al mondo volevo vincere volevo vincere credo che vincere cazzo non vincere madonna muoviti Pasqua che devo cacare pensa a difendere piuttosto pensa a difendere piuttosto mazza via questo ma tutto il cazzo questa varigina all'infinito vaffanculo ma che cazzo ciamino eh va bene ho recuperato una partita perché io ci posso credere ho recuperato una partita sei una vergogna della merda umana perché una vergogna è una vergogna e aprite gli occhi feccia 5 tiri a 4 16 tiri a 10 ormai dovresti essere 2 a 2 ma è rotto il cazzo ho tutto il cuore e poi con un'altra cosa tu però devi dire la precisione dei tiri guarda la precisione hai fatto un pallonetto solo davanti al portiere hai fatto un pallonetto hai fatto un piazzato non hai fatto un altro ma ho capito ma ti rendi conto che c'è la differenza abissale cioè c'è un 20% la differenza ma te le fai due domande non te le fai due domande che fai schifo ma tu fai schifo non te le fai due domande che fai schifo perché io tu voglio dentro la mezzanotte di oggi se arrivano facciamo anche Milan-Napoli altrimenti per questa settimana ha posto così detto questo mi piace commentate condividete iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto attivate la campanella ancora come l'altro video balli mentre parlo attivate la campanella per ricevere le feed e le notifiche dei nostri video detto questo profilo Instagram Gaboman7 vi mandiamo le feed pure là e poi vedete i cazzi nostri proprio esatto ci vediamo la prossima con un nuovo video sei contento di questo pareggio ma va a far cura e nella realtà che succede a nulla non sapendo non le mani addosso non ce l'ho manco idea che alle 20 a 45 non si è giocata una vita secondo me si corcano de botti ma detto questo ci vediamo la prossima ciao